Buonasera a tutti, come sapete oggi c'è stato un altro incendio a Matera che ha colpito dalle ore 13 e 10 all'incirca un'area molto delicata, quella della Martella, nell'area appunto della discarica di la Martella. Per tutto ciò che rappresenta la discarica potete immaginare insomma è un'area che ci ha destato subito molta preoccupazione. Io non ero a Matera, mi sono precipitato nel primo pomeriggio per cercare di fare sintesi con gli uffici amministrativi del Comune di Matera, la Polizia Municipale, ma abbiamo tenuto in prefettura un tavolo tecnico sulla sicurezza, non solo col prefetto ma con le forze dell'ordine e con l'ARPAB, oltre che con l'ASM e il sindaco di Altamura. Insieme ci siamo raccordati perché l'area dell'incendio è piuttosto voluminosa, parliamo di 40.000 metri quadri, dove i vigili del fuoco hanno fatto un ottimo lavoro andando a domare in qualche maniera le fiamme, grazie anche allo schiumogeno, oltre all'utilizzo dell'acqua con l'elicottero. Però comunque la preoccupazione è tanta perché si sono liberate anche nell'area delle sostanze che possono rivelarsi pericolose e questo ce lo diranno le analisi che l'ARPAB sta conducendo e condurrà nei prossimi giorni. Voglio rassicurare ai cittadini che è costante il monitoraggio dell'area e del territorio, quindi soprattutto nella zona della Martella, soprattutto vicino al Borgo Picciano, ma anche alle contrade vicino alla discarica stessa. Nei prossimi giorni sarà costante questo monitoraggio e ho chiesto espressamente che ci fosse un mezzo mobile attrezzato per i campionamenti, quindi anche il prefetto solleciterà la regione in questo senso. L'ARPAB andrà sia con un mezzo mobile per la qualità dell'area sia con un mezzo mobile per i campionamenti, andrà a verificare che l'area dell'incendio non sia così estesa e che non ci siano sostanze nocive nell'area e nel territorio vicino. Nei prossimi giorni quindi ci riuniremo in prefettura tutti i giorni fino a capire come la situazione possa essere risolta nel migliore dei modi. Sono nella condizione di dover andare a firmare un'ordinanza che possa mettere i cittadini, i residenti, ma anche le imprese nella condizione di massima sicurezza e quindi un'ordinanza che come concordato anche con il tavolo sulla sicurezza vieti la raccolta e il consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati esclusivamente nella zona di interesse, quindi parliamo ovviamente della zona limitrofa all'incendio, quindi il territorio di Borgo Lamartella, Borgo Picciano A, Borgo Picciano B, la zona industriale della Martella e quindi anche le contrade nella strada provinciale numero 6. Quindi andiamo a vietare, vado a vietare la raccolta, dicevo, e il consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, ma solo a titolo precauzionale, quindi fino a fine della emergenza della situazione. Quindi il divieto anche del pascolo degli animali, il divieto anche di raccolta e utilizzo dei foraggi freschi per l'alimentazione degli animali provenienti dall'area interessata. Ricordo, anzi invito tutti i cittadini, diciamo di Matera Nord, oltre che del Borgo Lamartella, a tenere comunque chiuse le finestre e a esporsi il meno possibile a eventuali fumi che possono andare a invadere anche la propria dimora. Siamo fortunati perché il vento fino a domani sera spinge verso l'aria del territorio altamurano e gravinese, fortunati relativamente, però non va nell'immediato Borgo Lamartella e quindi nemmeno fino alla zona di Matera Nord. Però in via precauzionale inviterei i cittadini a chiudere le finestre, almeno per questi giorni, fino ai monitoraggi, ai controlli e ai dati oggettivi che l'ARPAB ci fornirà. Questo solo, ripeto, a titolo precauzionale. Devo dire che Massima è stata la sinergia tra tutte le forze dell'ordine. I vigili del fuoco, permettetemi di ringraziarli perché hanno fatto un lavoro eccezionale. In una giornata hanno evitato che le fiamme potessero divampare in maniera eccessiva, quindi il fuoco già è abbastanza gestito, monitorato dai vigili del fuoco, grazie anche a queste soluzioni innovative dello schiumogeno e dell'elicottero utilizzato. Però Massima è la collaborazione anche con la direzione dell'ARPAB per andare a monitorare adesso l'aria circostante sia a livello di terreno, sia a livello di substrato sotto il terreno stesso, ma anche a livello dell'aria per evitare che ci possano essere diossine o che possano essere diffuse su territori agricoli e su campi coltivati. Quindi massima attenzione, un po' di sacrificio per i prossimi giorni a tenere chiuse gli infissi, le finestre e le porte anche nella zona di Matera Nord possibilmente e ci auguriamo di poter risolvere la questione nell'arco di pochi giorni. Quindi nell'arco di pochi giorni potremo dare dati, numeri certi che permettano di mettere in sicurezza tutta l'aria. Grazie a tutti.